in mostra le esposizioni temporanee nel sistema musei di roma capitale inauguriamo la nuova stagione del podcast in mostra con l'episodio dedicato a fidia la nuova esposizione monografica sul più grande scultore dell'età classica è un percorso straordinario nella vita e nell'attività dell'artista con oltre 100 opere alcune esposte per la prima volta tra reperti archeologici dipinti manoscritti disegni e installazioni multimediali la mostra ospitata presso i musei capitolini a villa caffarelli è promossa da roma capitale assessorato alla cultura sovrintendenza capitolina ai beni culturali ed è curata da claudio parisi presice proprio il sovrintendente capitolino ci spiega alla scelta di aprire con fidia un ciclo di mostre dedicate alla scultura antica e ci introduce alla figura di questo artista perché fidia perché l'arte greca soprattutto la scultura che diciamo la disciplina nella quale ci cimentiamo con questo ciclo di mostre è il fondamento di tutta la scultura successiva romana ma anche rinascimentale ed è bene che in un momento in cui anche nelle università la cultura greca viene insegnata di meno rispetto agli anni cui la mia generazione ha frequentato in aule universitarie è utile tornare a parlare di arte greca e fidia è sicuramente uno dei protagonisti e lo è stato da subito anche le fonti antiche anche senocrate un critico d'arte di pochi anni successivi rispetto alla generazione di fidia e dei suoi i miei allievi lo ha considerato come il più grande d'altra parte è una figura un po' enigmatica è una figura un po' sfuggente è quasi un fantasma perché conosciamo pochissimo della sua vita sappiamo poche notizie il padre carmide lo affidò scoprì immediatamente le sue doti di artista non ti do a una bottega ma le fonti ci dicono che ha avuto più di un maestro quindi questo ci fa pensare che era insofferente non aveva l'idea di frequentare una sola disciplina e di fatto figlia è uno dei pochi che viene ricordato come scultore scultore del marmo scultore del bronzo come pittore e anche come architetto un'architettura che era funzionale alla realizzazione di opere enormi gigantesche ma espose quindi richiedevano competenze anche da architetto possiamo immaginare solo Michelangelo come artista che avesse questo tipo di versatilità d'altra parte è una figura un po' sfuggente perché tutta la sua arte la conosciamo attraverso le copie romane oppure attraverso la realizzazione del partenone dove però non sappiamo quando sono effettivamente gli elementi che sono riconducibili alla sua mano fregio ionico alla sommità della parete con una grande cavalcata metope che utilizzano i miti più antichi tutti i due frontoni che raccontano gli episodi centrali nella vita di Atene cioè la nascita di Atene stessa dalla testa di Zeus e lo scontro con Poseidore per il possesso dell'Attica in realtà non sappiamo dove si possono ritrovare esattamente le mani del grande artista ma sappiamo che lui amico di Pericle in un periodo che va dal 480 al 430 riuscì a organizzare forse quello che è stato il cantiere più grande dell'antichità cioè dell'antichità greca cioè quello di ristrutturare, riorganizzare, ripensare l'Atena, l'acropoli non soltanto dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista del messaggio che avrebbe dovuto raccontare al resto del mondo ellenico conosciuto rispetto alla capacità di Atene di dovinare quella stagione dell'antichità dunque una figura quasi leggendaria del mondo classico, quella di Fidia nello svolgersi della mostra tuttavia gli spunti per delineare la personalità e l'opera del grande artista greco sono numerosi le linee guida della mostra ce le riassume ancora Claudio Parisi Presicce raccontiamo il percorso artistico, raccontiamo l'eredità culturale dell'artista Asidia in diversi settori, in particolare nella scultura e raccontiamo la riscoperta dell'antichità greca e qual è poi il significato che è assunto nella nostra concezione dello sviluppo della storia dell'arte Entriamo dunque nel cuore del racconto della mostra partendo da un oggetto appartenuto proprio a Fidia ci racconta di cosa si tratta Francesca De Tomasi archeologa della sovrintendenza capitolina Fidia è considerato tra i più grandi artisti di tutti i tempi ma nell'Atene di V secolo a.C. era per tutti un eccellente artigiano e come la fama di Fidia è sopravvissuta i secoli così è accaduto a questa brocchetta che riporta un'iscrizione Io sono di Fidia è stata infatti rinvenuta negli scavi del santuario di Olimpia dove l'artista lavorò alla realizzazione del colosso di Zeus e forse proprio a lui è appartenuta La fama di Fidia è legata indissolubilmente al partenone non sempre è stato possibile assegnare le singole parti scultore che compongono questo straordinario esempio di arte greca alla mano di Fidia Di certo un grandioso esempio della sua arte era la statua di Atena come ci racconta Alessandra Avagliano archeologa della sovrintendenza capitolina La cella del partenone accoglieva al suo interno la statua di Atena Partenos detta la Vergine Il colosso con i suoi 11 metri di altezza si stagliava davanti ad un colonnato a doppio ordine La scultura aveva le parti nude quindi le braccia, la testa, i piedi realizzate in avorio mentre il peplo, quindi la lunga veste che scendeva fino ai piedi era realizzato in lamine d'oro applicate su un corpo di legno per eseguire questa scultura furono impiegati addirittura mille chili d'oro che costituivano il tesoro pubblico di Atene ed infatti potevano essere smontati e riutilizzati in caso di necessità La scultura era rappresentata appunto dritta stante e aveva un scudo enorme di 5 metri di diametro poggiato sul suo fianco sinistro lo scudo era riccamente decorato il lato esterno con una amazzonomachia quindi la lotta delle amazzoni contro i greci mentre il lato interno era dipinto con una scena di gigantomachia quindi la lotta contro i giganti Per meglio comprendere la grandiosità della stadua di Atena e come si inseriva nella costruzione architettonica del Partenone ci viene in aiuto la tecnologia come ci spiega Francesca De Tomasi La videoinstallazione che arricchisce il percorso della mostra è stata realizzata come un'esperienza di realtà virtuale immersiva che però non necessita dell'utilizzo dei visori questo significa che i visitatori possono interagire con uno schermo touch che ha due manopole che permettono di ruotare il tempio e quindi di apprezzarne la decorazione e di far cambiare la luce come se il giorno stesse trascorrendo sotto le proprie mani inoltre attraverso il touchscreen è possibile accedere a dei video di approfondimento che raccontano proprio l'opera di Fidia sul Partenone Un'altra meravigliosa opera di Fidia della quale abbiamo solo alcune testimonianze è un'imponente statua considerata una delle sette meraviglie del mondo classico e della quale ci racconta tutto ancora Alessandra Avagliano Intorno a 430 a.C. Fidia ricevette una proposta di lavoro davvero allettante si trattava di creare la statua di culto di Zeus per il santuario di Olimpia uno dei più famosi del mondo antico che ospitava lo svolgimento dei giochi olimpici Fidia non ci pensò su due volte e mise in campo tutta la sua creatività la sua competenza per creare una statua ancora più sbalorditiva dell'Atena Parthenos Lo Zeus di Olimpia era una statua colossale alta circa 15 metri seduta sempre realizzata in oro e avorio aveva un trono altissimo riccamente decorato con motivi mitologici a ricostruire l'immagine della statua ci aiutano due monete emesse al tempo dell'imperatore Adriano dalla città di Elide in una prima si vede la statua nel suo insieme quindi seduta sul suo trono nella seconda si vede invece un particolare del volto il modello del Tempio di Zeus ci dà l'idea della grandiosità della scultura così come era ospitata al centro della cella La riscoperta della figura di Fidia in età moderna si deve a due illustri italiani come ci racconta Francesca De Tomasi Dopo un periodo di oblio seguito alla fine del mondo antico fu Francesco Petrarca alla metà del XIV secolo a riconoscere il nome di Fidia in un'incisione l'incisione si trovava sulla base della statua di uno dei dioscuri che si stagliavano sul colle del Quirinale e riportava proprio il nome dello scultore ateniese questa attribuzione fu in realtà superata già nei secoli successivi e poi definitivamente messa da parte nel momento in cui i marmi del Partenone arrivarono in Inghilterra proprio a Londra li vide Antonio Canova definito dai suoi estimatori il Fidia Italico proprio per la sua fama che non solo li apprezzò tanto da richiedere che venissero tratte copie per diffonderne la conoscenza in Italia nelle accademie di belle arti ma si rifiutò persino di restaurarli affermando che i marmi fossero così belli nonostante le lacune che presentavano da non dover aver bisogno di un restauro La mostra composta da una preziosa selezione di oltre 100 opere tra reperti archeologici originali greci e repliche romane dipinti, manoscritti, disegni alcuni esposti per la prima volta inaugura un ciclo di 5 mostre i grandi maestri della Grecia antica dirette a far conoscere al grande pubblico i principali protagonisti della scultura greca La mostra Fidia è ai Musei Capitolini Villa Caffarelli fino al 5 maggio 2024 tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura per informazioni in 06 06 08 oppure ai siti museicapitolini.org o museincomuneroma.it In mostra è un podcast realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali prodotto da Zetema Progetto Cultura con la collaborazione tecnica e artistica di Tecnotown Hub della scienza creativa Grazie a tutti